ciao ciao amici ciao a tutti ragazzi cominciamo a fare un po come hanno fatto tutti quanti anche ale vi dà le pagelle del calcio mercato le squadre competitor alla roma vi dico per me non sono voti sfavillanti come ho visto un po in giro ma mi tengo basso perché perché comunque sono venuti giocatori parecchio diciamo anziani operazioni non mi sono piaciuto tanto come come operazioni però terrò conto del budget terrò conto delle squadre in champion e della roma terrò conto di una cosa in più allora ai primi posti di questo calcio mercato secondo me secondo me ci sono juve int e napoli con voto sette e mezzo sette e mezzo la juve gli do sette e mezzo perché comunque mette in rosa e tutti sottovalutano questa cosa mettono rosa due dai fra i giovani più forti in italia del campionato italiano che c'erano anche l'altro anno uno è kulusevski e l'altro è chiesa poi mette anche artur dentro da via vero pianic ma anche artur molto molto più giovani di pianic e per il resto fa operazioni così da via da grass costa e comunque giocava giocava poco nella juve per causa infortuni prende prende morata morata che comunque prende il posto dei guain arrivato veramente alla pensione perciò io do voto sette e mezzo e all'inter do sette e mezzo perché soprattutto perché prende akimi poi ragazzi vidal vero ottimo acquisto però ricordiamoci vidal gli anni ricordiamoci anche gli anni di colarob e credo che colarob stia stia andando veramente incontro al fine carriera e e poi comunque se un'ottima operazione comunque aver tenuto anche naengolana alla fine può risultare utile hanno preso pita pina monti come come vice come vice lukago e alla fine può andar bene e per il resto ripeto per me darmi anna è un giocatore per me non ti sposta niente però ripeto il colpo secondo me loro hanno fatto a destra con akimi e poi anche vital per carità di dio è sempre tanta roba avere un peso così a centrocampo le cessioni hanno fatto tutta roba minore con quell'ossatura hanno tenuto quella i giocatori forti il napoli uguale il mercato l'ha fatto più a non cedendo soprattutto culi balì e gli altri giocatori forti anche fabia ruiz e l'hanno rinforzata soprattutto in attacco con o cimene e anche pedagna come vice che va bene anche se diciamo in quel ruolo adesso napoli ne ha qualcuno forse di troppo baga yoko è un giocatore che a me vi dico la vita non piace però il napoli il merito è aver fatto quel colpo là davanti di cimene e non aver venduto nessuno voto 7 e mezzo perciò 7 e mezzo napoli 7 e mezzo juve 7 e mezzo inter come al secondo posto di queste tre squadre metto l'atalanta voto 7 anche l'atalanta vende solo castagne e di di pezzo diciamo importante però si tiene gosens a debore e tiene tutti i pezzi loro più importanti e rafforzano la rosa con mi micachuk e lammer c'entra avanti quello del del piaz bundouen e romero in difesa e comunque per quello che può fare l'atalanta secondo me è un mercato ottimo e perciò 7 all'atalanta dopo io metto 6 e mezzo milan 6 e mezzo roma 6 e mezzo roma allora milan e roma 6 e mezzo voto 6 e mezzo milan prende tonali colpo del 2000 è un colpo ragazzi possiamo dire quello che 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 ci pare ma un ragazzo del 2000 è un colpo uno dei giorni italiani più forti soprattutto al centrocampo per il resto anche il milan vende solo esuberi tiene rossatura della squadra in avanti prende qualche cosetta però diciamo il 6 e mezzo soprattutto per tonali e per non aver venduto la roma voto 6 e mezzo vende esuberi giocatori che comunque con seca giocavano poco stanno per la prima volta rispetto agli altri anni non vende proprio giocatori importanti a roma potrebbe vendere anche per du o giocatori titolari non li vende quest'anno compra rafforza la squadra soprattutto con kumbu la e diciamo poi c'è il punto interrogativo mai orale bisogna vederlo in italia come questo ragazzo ci sono i ritorni di di miki darian e smalling però non li posso non li posso considerare come acquisti li hanno ripresi ma non è che rafforza la squadra perché c'erano anche l'altro anno il vero colpo si sta dimostrando e petro è preso a 33 anni ma preso a parametro zero sta dimostrando di essere veramente un grande colpo perciò le entrate di pedro e kumbu la che comunque sono due titolari nella roma mi fanno mi fanno mi fanno dare mi fanno dare questo questo voto qua a roma e milan poi do alla fiorentina voto 6 non sposta nulla secondo mercato c'è un mercato della fiorentina anzi vende chiesa è vero che prende ambrabatte è vero che prende qualche giocatore però anche loro caleionne giocatori un po vecchi un po usurati un po al mercato di prate non mi ha entusiasmato il mercato della fiorentina soprattutto la gestione di chiesa all'ultimo dove avere un'entrata differente invece di caleionne perciò comunque do un 6 perché ambrabatte secondo me tanta roba e buonaventura un buon giocatore a parametro zero hanno fatto qualche altra cosetta però voto 6 la lazio e la televisione del calciomercato ma no perché sono tifoso della roma perché mi pare evidente la squadra che va in champions league una squadra che andava rinforzata in certi ruoli e invece prende giocatori magari in altri ruoli dove era un po più coperta dove ha preso marichi esterno a sinistra fare secondo punto interrogativo fra infortuni e comunque già veniva da viene dalla spalla e in difesa e ragazzi quello è un giocatore lazio lo manda via scarso ut e la loro dovevano rinforzarsi tanto e niente per il resto ragazzi è così ragazzi queste sono le mie pagelle e ripeto ci sono fatto delle fasce primo posto juve napoli e inter secondo posto lo do all'atalanta terzo posto milan e roma quarto posto fiorentina quinto lazio ok un abbraccio a tutti forza roma e daia